Grazie a tutti. Studiando poi l'alimentazione a livello scientifico, a livello anche storico e occupandomi poi di alimentazione sana come lavoro, ho scoperto delle verità che non ci sono mai state dette. E ho scoperto perché io mi ammalavo sempre, perché si accumulavano tossine, ormoni, antibiotici, ma anche un'incompatibilità del nostro corpo a mangiare carne e pesce. Questo perché? Perché il nostro corpo non è stato creato per mangiare carne animale. Ci sono tantissimi studi scientifici sopra questo. Molti medici, molti biologi che hanno dichiarato questo gli hanno fatto perdere il lavoro o sono anche morti per questo, tra cui un dottore studioso Arnold Eret, tedesco, che dopo che ha dichiarato le verità su come dovrebbero alimentarsi gli umani e non mangiare carne animale, è stato ucciso dopo un ciclo di conferenze. Quindi c'è qualcosa di molto importante che non vogliono le grandi potenze che governano che venga detto. La carne non solamente ci fa ammalare perché gli animali, questo è provato scientificamente, ci sono dei documentari su questo, vengono negli allevamenti riempiti di ormoni, antibiotici, vaccini, medicamenti totalmente tossici per l'essere umano. Primo. Secondo, vivono in condizioni disumane, di tortura, che si ammalano solo per questo. E noi mangiamo animali infermi, malati, terrorizzati, vengono uccisi in condizioni di estrema tortura, di paura di panico, in condizioni terrificanti perché si crea adrenalina nel corpo e nel sangue. E noi geneticamente prendiamo queste memorie di paura, di ansia, di aggressività, di angoscia. E questo è stato provato a livello scientifico, potete fare le ricerche, ci sono tanti documenti sopra questo. Quindi, e in più, la carne, uccisa dopo due giorni, si riempie di milioni di batteri, milioni di virus. Ma oltre a questi, che già per questi motivi non dovremmo mangiare carne, si dà il fatto che Dio ha creato l'uomo e la donna, vegani, fruttariani. Il nostro corpo, l'uomo, ha una natura frugivora. E se si alimentasse solamente di frutta, non avrebbe più infermità. Questo ci sono stati degli studi e persone che hanno perso la vita per questi studi. Io personalmente, da estremamente malata di tutto e di più, a causa dell'alimentazione, e che questo aveva influito molto anche sul mio stato di salute psichica, con depressione, aggressività, nervosismo, ho incontrato, grazie a Dio, un nutrizionista cristiano e un erborista cristiano che mi hanno parlato della creazione, di come Dio ha creato l'uomo e di come l'alimentazione originaria era di frutta e semi e niente più. Quindi ho fatto un cambio radicale, cambio radicale difficile perché siamo totalmente drogati da tutto questo. Crisi di astinenza, crisi di guarigione fortissime, di depurazione, di tutte le tossine dal corpo. Bisogna avere tanta fede in Dio e tanta forza di volontà. E tutto è cambiato nella mia vita. A livello fisico non ho più malattia. A livello mentale cambia totalmente il modo di pensare. Più pace, più armonia, più amore, più serenità. Più connessione con lo spirito, con Dio, con lo spirito santo. Quindi chi governa il mondo, che è Satana, sa tutte queste cose e lui ha messo l'alimentazione della carne nella civiltà umana. Lui ha inserito i sacrifici degli animali. Lui ha inserito tutto perché si è infilato nell'Antico Testamento, nel Nuovo, presentandosi come Dio vivente, ma non lo era. E molti dell'Antico Testamento sono stati ingannati, a parte i profeti, che credevano che il Dio che gli parlava era il Dio vivente, ma il Dio vivente non vuole sacrifici carnali e di animali. Non vuole che mangiamo animali. E questo è anche scritto in molti libri che sono nella Torah, nella Bibbia ebraica originaria, che sono stati, guarda caso, tolti, eliminati. Molti testi sono stati eliminati che parlavano di questo, che dovevano non mangiare animali, come nel libro di Enoch, che si cita Enoch nella Bibbia. Però gli iscrivi e chi governava a suo tempo nelle prime comunità cristiane, dopo anche Costantino l'imperatore, molti Vangeli sono stati bruciati oppure rilegati, nascosti, e hanno tenuto buono solamente i quattro Vangeli, che ritenevano che non potevano dire molte verità, che potevano dar fastidio. Quindi c'è tanto da scoprire. Se voi leggete la parola con lo Spirito Santo, c'è tanto da scoprire. La verità rende liberi, disse Gesù, che tante cose non hanno potuto toglierle. Ma tante verità per poter ingannare l'uomo, per poterlo tenere a bassa frequenza, perché la carne abbassa la frequenza spirituale, ci tiene a livelli veramente luciferini. E io lo posso testimoniare, perché ho avuto un cambio spirituale, un cambio nel fisico, nella mente, nell'emozione, nello spirito fortissimo. E ho compreso molte cose, molte verità. Arnold Eret, e nomino lui, come tanti altri, come Manuel Lasceralla Zeta, un nutrizionista cristiano, che anche lui dice che la dieta originaria era fruttariana, di semi e frutti, ha scoperto una cosa molto interessante, che il sangue, il ferro, si autocreano nel sangue. E dice che la sostanza cardinale standard per il sangue umano è la più alta forma sviluppata di idrato di carbonio, zucchero d'uva o di frutta, chimicamente denominato glucosio, come contenuto più o meno in tutta la frutta matura e nel suo stato immediatamente inferiore nelle verdure. Solo questa frase, dichiarata ufficialmente nei suoi libri, ed è per questo che l'hanno eliminato, il sangue si produce con la frutta, col glucosa della frutta, semplicemente. E il fatto delle proteine le troviamo nella frutta, il ferro, che tanto dicono bisogna mangiare la carne per il ferro, è una menzogna. Le mucche e i cavalli mangiano l'erba per avere il ferro nel loro sangue, e noi mangiamo dei cadaveri per recuperare quel minimo quantità di ferro che non è organica, è un cadavere, è morto, pieno di batteri. Approfondite questi argomenti, io vi invito ad approfondire, perché io li ho approfonditi in uno stato di salute che stavo morendo, però vi invito a approfondirli ora, prima che vi ammalate o vi capita qualcosa che vi porta poi a ricercare quando siete al limite, in ginocchio. Io l'ho fatto che ero in ginocchio, ma ho scoperto tante verità che nostro Signore Gesù Cristo tra le righe ha dato le verità, e tante verità sono state omesse e tolte dalla Chiesa Cattolica Vaticana perché avrebbero portato l'umanità a un'evoluzione spirituale troppo alta che avrebbero capito troppo, invece la carne ci tiene a basso profilo, loro vogliono tenerci ipnotizzati sotto controllo. Satana è attraverso i suoi figli che sono stati generati attraverso la generazione di Caino, perché come tutti sanno, i veri studiosi nella Torah c'è anche scritto, nella Bibbia ebraica originaria, in Aramaico, che Caino era il figlio di Satana ed Eva, e si è creato un lignaggio non di figli di Dio, ma figli di Lucifero, che amavano la carne e il sangue per tenersi in vita, perché sennò non potevano mantenersi attivi. Quindi tutto questo è per testimoniare che l'uomo è frugivoro, non è stato creato per mangiare carne, chi ha imposto tutto questo è stato Lucifero attraverso medici corrotti, biologi corrotti, studiosi corrotti, scienziati corrotti, che sono figli di Lucifero e non figli di Dio. E molti figli di Dio che stanno portando la verità, che Dio li benedica, e quelli che hanno perso la vita per dire la verità, che ora sono nei regni dei cieli, che un giorno li rincontreremo, che Dio li benedica grandemente per il loro martirio, per aver detto la verità. E una delle cose più importanti da sapere, che questo è stato scritto anche nel libro di Enoch, ma anche in Genesi, lo si trova in più passi, in più versetti, che Dio ha dato l'alito di vita, lo spirito di vita, agli animali e all'uomo, quindi hanno un'anima. E nel libro di Enoch, che era nella Bibbia originaria, che è stato tolto, c'è un passaggio che dice che gli angeli avvertirono Enoch di avvisare l'umanità di non mangiare gli animali, perché dovremmo rendere conto di questo al giudizio davanti a Dio, perché gli animali hanno un'anima come noi. Quindi questo è un punto importantissimo che in Genesi lo ero trovati in diversi passaggi, l'alito di vita, lo spirito di vita. Perché Dio nell'arca di Noè, oltre a Noè, che è l'unico sopravvissuto, puro, pulito, ha salvato le coppie di animali e non ha salvato altre persone? perché ha voluto salvare la sua creazione con l'alito di vita, con lo spirito di vita. Gloria a te, Signore Gesù. Amen. Grazie.